L'attesa sta diventando sempre più sofferenza. Marzo è iniziato ma ancora non sono cominciati i lavori per la ricostruzione del palagrammatico a Salle Iborio per la precisione in via Giulio Cerruti. L'ultimo avviso del delegato allo sport Matteo Iacomelli indicava per fine febbraio la partenza degli interventi ma Iacomelli ha affermato che servirà ancora qualche giorno per risolvere le ultime questioni. Una situazione che non piace per nulla alla Flavioni Handball, la società maggiormente interessata dalla questione in quanto ormai da sei anni, dal 26 febbraio 2018, giorno del crollo del vecchio palagrammatico, la società gialloblu non ha una casa dove svolgere al meglio le proprie attività e far fiorire il proprio settore giovanile che sta andando avanti tra mille difficoltà. Stanno per costruire un mostro senza piano di manutenzione, afferma il tecnico Patrizio Pacifico, né idea di gestione. Siamo disposti ad aspettare ancora una settimana, poi ci incateneremo perché la nostra pazienza è quasi finita. Ma i dubbi della Flavioni non riguardano solo il ritardo della partenza dei lavori di cui si parla insistentemente dalla scorsa estate, ricordando che sarebbero dovuti cominciare già dopo ferragosto. C'è il rischio di avere un secondo stadio del nuoto, riprende Coach Pacifico, senza parcheggio, senza piano di manutenzione. Senza spesa pubblica un impianto comunale può essere solo privato, con la differenza che un impianto comunale non può essere privato. Toglierci l'impianto di Viabetti dopo 40 anni è stata una bella forzatura politica. Quindi gli interrogativi non finiscono per il nuovo palagrammatico che potrebbe continuare ad essere immerso nelle polemiche anche quando il campo tornerà a disposizione della città. Ma intanto, prima di pensare a questo, c'è un'altra situazione che deve avere la precedenza, ovvero i lavori, perché i ragazzi che amano la palla a mano ne hanno bisogno e non possono più aspettare onde evitare la chiusura di uno sport che sta dando tante soddisfazioni a Civitavecchia.